È un atto di guerra terroristica, veramente di una barbarie inaccettabile. C'è la vicinanza assoluta di tutta la nostra città, la straordinaria città di Manchester. Il fatto di aver colpito giovani e giovanissimi in un momento di allegria, spensieratezza e di gioia. È un atto di guerra. Quindi bisogna rispondere con la vita, non con il panico, non con l'arrendevolezza e non facendo prevalere la sopravvivenza. La vita è lotta, è gioia, è amore, è solidarietà. Ecco perché noi non ci stanchiamo ogni giorno, nemmeno di fronte a questi fatti orrendi, di costruire ponti di dialogo, di solidarietà, di amicizia, di fratellanza. Perché solo comunità in cui si sta bene insieme nelle differenze si può costruire un mondo migliore. C'è troppo odio, c'è troppo odio nel mondo e quindi bisogna anche interrogarsi da dove proviene quest'odio. Ecco perché di fronte all'odio e anche all'indifferenza e alla paura bisogna costruire società in cui prevalga l'amore e la solidarietà.